Fingendosi impiegato delle poste, assicuratore, avvocato o carabiniere, il telefonista diceva che un familiare doveva saldare un debito per il ritiro di un pacco o che un figlio aveva provocato un incidente stradale che l'assicurazione era scaduta e quindi per sistemare le cose sarebbe stato necessario consegnare denaro o gioielli. In seguito un complice passava a prelevare quanto richiesto a casa delle vittime che solo ore dopo, parlando con i propri familiari, scoprivano il raggiro. Ma la truffa agli anziani stavolta è stata fermata dalla Procura della Repubblica di Pescara. I carabinieri della Compagnia di Penne hanno dato esecuzione a un'ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere messa dal GIP del Tribunale di Pescara nei confronti di due persone, un 19enne e un 24enne, pregiudicati, entrambi gravemente indiziati, di essere responsabili di truffe in danno di persone anziane. Le indagini dei carabinieri del nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Penne, dirette dalla Procura della Repubblica di Pescara, hanno consentito di raccogliere gravi elementi indiziari in relazione a coinvolgimento dei due giovani nella commissione di truffe in danno di persone anziane residenti nella provincia di Pescara, acquisendo indizi di colpevolezza a carico dei due arrestati in merito a episodi consumati nel comune di Penne lo scorso settembre. La modalità esecutiva era sempre la stessa, i due in concorso tra loro avevano contattato telefonicamente un'anziana del posto dicendole di appartenere alle forze dell'ordine ed informandola che sua figlia aveva avuto un incidente stradale. Aveva investito un uomo rischiando il carcere e per evitare ciò doveva corrispondere la somma di 8 mila euro. La truffa non veniva consumata perché l'anziana 75enne, grazie anche alle numerose campagne di informazione effettuate dall'arma dei carabinieri e dalla prefettura di Pescara, interrompeva la comunicazione e telefonava ai carabinieri di Penne. Nella stessa giornata, con lo stesso modus operandi, i due arrestati avevano inoltre consumato una truffa ai danni di una donna di 82 anni facendosi consegnare 4.200 euro, denaro poi recuperato dai carabinieri e restituito alla vittima.